Manifestazioni Manifestazioni della sesta settimana mantovana inaugurata dal ministro di grazia e giustizia sua eccellenza Solmi. La sfilata dei reparti ciclistici del dopolavoro, la dunata di popolo nello storico parco del palazzo Tè. Fra le varie mostre allestite nella reggia estiva dei Gonzaga e nei vasti giardini diamo un'occhiata a quella degli animali da cortile e a quella delle massaie rurali che in un'apposita casetta tipo confezionano le classiche pietanze della cucina mantovana.